Carnevale di Cinisi 2024, un rinvio dovuto alle condizioni del tempo. Sì, i venti di scirocco che stanno soffiando per ora a Cinisi e la previsione della pioggia con carattere di rovescio che ci sarà la domenica ci spinge, ci trova costretti a rinviare il Carnevale soltanto a distanza di una settimana, in particolare il 16, il 17 e il 18. Il punto è che quest'anno l'Associazione La Maschera, intera associazione che si occupa dell'organizzazione del Carnevale che ha dovuto anche interagire con le istituzioni locali, quindi con le istituzioni comunali e anche sovracomunali deve rispettare giustamente, pedissequamente tutte le condizioni di sicurezza e noi ci teniamo alle condizioni di sicurezza e tutela delle persone perché assemblare il lavoro, questi componenti dei carri tutti insieme in un momento di scirocco non è assolutamente possibile farlo in termini di sicurezza perché il rischio che siano pericolosi, che possono cadere, che non vengono montati e che possono rovinarsi anche è alto. Quindi nel rispetto a livello prioritario di tutela e sicurezza delle persone e nel rispetto di quanto lavoro è stato fatto di questi ragazzi che con spirito di volontariato gratuitamente, sacrificando anche tempo, lavoro e famiglia, hanno elaborato dei manufatti che sono di pregevole fattura, a livello che sono un piccolo tassello anche di Unesco, quindi è giusto, è sacrosanto farlo. Dico sacrosanto perché? Perché abbiamo parlato anche con l'arciprete. Cini si ha, tra virgolette, la fortuna di essere insieme al Carnevale Ambrosiano, un carnevale che tempo fa veniva fatto anche nel periodo quaresimale. C'era una appendice al Carnevale, che era quella del Carnevalone, che si faceva la domenica successiva al Carnevale. Pertanto anche dal punto di vista religioso, in un certo senso, siamo avallati da questa situazione, non andando a toccare il periodo quaresimale proprio nel rispetto di questa tradizione. È vero che il Carnevale è la festa più riverente dell'anno, ma è altrettanto vero che insieme, ripeto, al Carnevale Ambrosiano, il Carnevale di Cini si viene avallato anche dal punto di vista religioso. Quindi appuntamento spostato, stiamo cercando di elaborare e concentrare il programma tutto insieme nei giorni di venerdì 16, sabato 17 e 18 per garantire tutte le sequenze, in particolare i cavalli, la sfilata della scuola, la sfilata dei carri allegorici e gli spettacoli compatibilmente alle esigenze delle star che ci saranno. Quindi appuntamento rinviato soltanto nel segno della spensilatezza e del divertimento che ci sarà il prossimo weekend.